Non te lo dice, ma non ti dici i trucchi, ma te stai scherzando Mamma mia come mi vedo nella rongia qua Aiaia, se sbagli il peso sei dentro Che casino di birilli ah è più facile di lì mi sembra 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 guarda si 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 taglialo dietro fabio dietro taglialo aspetta no no di là aspetta no 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 adesso vedi che arriva a fuoco no 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 super esperto che state facendo tutti vieni di qua questo vieni di qua questo vieni di qua questo vieni di qua questo adesso puoi giungere là taglia più vieni di qua vai Paolo vai vieni di qua vieni qua bravo 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 vieni